Perché è ancora vivo? Non lo so. Non dovrebbe essere vivo. Questo mi irrita molto. Sono terribilmente irritato. Ho fatto quanto dovevo fare. Se il nostro padre avesse potuto fare a modo suo, l'impero sarebbe stato fatto a pezzi. Lo capisci? Sì. Che cosa hai provato? Quando l'hai visto? Non ho provato niente. Ti ha colpito profondamente, non è vero? Non più di quanto io abbia colpito lui. Mi hanno mentito in Germania. Mi avevano detto che era morto. Se mi hanno mentito, non mi rispettano. Se non mi rispettano, come potranno amarmi? Allora dovrei far sì che le legioni sappiano che il tradimento non resterà impunito. Povera sorella, non vorrei essere tuo nemico. Che cosa farai? Ciao a tutti. Grazie a tutti.